sono spiazzato ragazzi non non me lo sarei mai aspettato o meglio un risultato del genere potevamo aspettarcelo ma non mi aspettavo una partita del genere da parte del napoli e da parte del lecce sono qui per commentare tutto quello che ho visto e mi piacerebbe qualora commentaste qui sotto nei commenti con il vostro puro e semplice scusate mi pare personale detto questo vi saluto immediatamente ciao è bello a tutti da me vi invito a lasciare mi piace semplicemente è gratis per supportare i miei contenuti e se volete in merito anche il parere del buon fabio iscrivetevi e attivate la campanella per restare sempre aggiornati se vi fa piacere ovviamente c'ho due canali di calcio e anche un canale youtube extra calcio ve li lascio in infobox o come sempre compariranno qui durante il video allora la mia testa come sempre frulla si fa dei ragionamenti si fa dei ragionamenti ovviamente sia all'interno della partita ma anche prima dell'inizio di questa partita e quando ho visto lì davanti raspadori titolare e non simeone sapete cosa ho pensato ve lo dico proprio senza senza problemi io al posto di spalletti avrei dato continuità e fiducia a simeone perché una prestazione no deve diciamo come risultato portare l'attaccante a volersi spronare da solo dargli scusatemi un'ulteriore possibilità da titolare per sbloccarsi in vista della partita con il milan della possibile assenza di osimen potrebbe anche recuperare poi però quando simeone si è fatto male ragazzi e quando è stato costretto ad uscire ho pensato ma non è che spalletti non lo ha schierato titolare per preservarlo visto che è l'unica prima vera punta che gli è rimasta in vista proprio chi lo sa dell'assenza di osimen però non cozza il fatto che poi l'ha fatto subentrare quindi non lo voleva preservare a mio modo di vedere anche perché se non ricordo male aspettate un attimo simeone è entrato subito dopo il gol dell'1 a 2 l'autogol di gallo la verità ovviamente è pieno di zanzare qua dentro mamma mia la verità non la sapremo mai fatto sta che oggi non mi aspettavo un napoli così e vi posso dire quanto la testa fa la differenza nel mondo del calcio io l'ho sempre detto per me è la dinamica più determinante in assoluto più della tecnica più della tattica ragazzi la testa fa tutta la differenza di questo mondo nel caso del napoli di questa partita la testa fa la differenza non solo ripensando al 4 a 0 che gli ha rifilato il milan ma anche in vista di un altro scontro con il milan ben più importante in ottica champions league andata e ritorno dei quarti di finale questo napoli non è tranquillissimo ecco mettiamola così e questo lecce ragazzi ti sforna una prestazione importantissima dal punto di vista della solidità e anche della ripartenza ma anche in fase propositiva proprio partendo da da gestione di possesso palla loro dopo cinque partite consecutive se non ricordo male senza fare neanche un gol e senza vincere anzi solamente sconfitte nelle ultime cinque per il lecce e allora una piccola disamina la voglio fare anche su su di lorenzo e sull'assist di kim perché credo che la dimensione di kim vada sottolineata non solo dal punto di vista difensivo è uno che si sacrifica a 360 gradi per la squadra e potevamo pensare con il vantaggio di di lorenzo che se non sbaglio regalo io quest'anno ho visto segnata più spesso del solito o sto dicendo una una stupidaggine si carica la squadra sulle spalle e fa la differenza attenzione perché lecce riparte ma c'è stata una bella parata una bella parata da parte di meret che tra l'altro all'inizio di questo match è stato importantissimo è il portiere fa tutta la differenza del mondo anche in queste in queste situazioni perché in occasione della prima occasione del lecce erano passati pochissimi no era la seconda occasione del lecce c'era stata quella di untidi precedentemente e meret fa una parata pesante fa una parata che ragazzi fosse passato in vantaggio il lecce 1 a 0 dopo pochi minuti non lo so è quando psicologicamente le cose seppur non sono andate bene in una singola partita però ripeto in vista del pensiero che c'è verso l'altra partita sicuramente poteva essere una partita differente vanno fatti però i complimenti al lecce non vanno tolti meriti a questa squadra e non vanno dati solo de meriti a questo napoli per questa prestazione sicuramente sotto tono potevamo immaginarci un napoli più arrembante un napoli più cattivo un napoli più voglioso di voler dimostrare di voler creare di voler segnare di voler di voler mettere più gol possibili no davanti all'avversario per chiudere immediatamente la pratica e pensare poi a quello che è il prossimo scontro di di champions league situazione gol convalidato è passato più di qualche minuto napoli ha creato qualche altra cosa dopo il gol del vantaggio è e potevamo in realtà immaginarci anche un 2 a 0 da parte dei partenopei viste anche le occasioni successive che ci hanno avuto è perché in un paio di occasioni baschirotto è stato tutte e due verso la fine del primo tempo baschirotto è stato determinante quindi anche questo va analizzato comunque come dato è però il lecce c'è stato il lecce quando c'è stato da creare qualcosa lo lo ha fatto ecco il napoli ha concesso veramente troppo e non è da napoli concedere così tanto in casa del lecce dopo l'andamento che abbiamo visto in tutto questo campionato milano a parte e nel secondo tempo arriva il pareggio meritato secondo me perché il lecce stava spingendo di francesco non solo fa un bel gol ma poco prima c'era stata una una traversa centrata da sisei sisei chiamatelo come sisei patrick viera sisei non nezie e avesse pareggiato sta partita a lecce ragazzi non avremmo sicuramente urlato allo scandalo ecco mettiamola così perché poi ripeto quando psicologicamente prendi il gol dell'uno a uno si è visto che sto napoli forse oggi non c'aveva proprio la forza mentale di provare a riprendere questa questa partita mi sono dimenticato sul raspatorio ho detto solo della scelta iniziale pure lui già ha avuto un'occasione seppur deve un'occasione per mettersi in mostra seppur deve ritrovare anche la continuità anche minuti nelle gambe però a me personalmente non è non è piaciuto non era male ovviamente l'idea di non dare punti di riferimento no con l'attacco leggero e arriva poi sta autogol che ragazzi è assurdo se ripenso all'autogol per come arriva so cose che possono capitare per carità eh per fortuna che Gallo io perché ce l'ho al fantacalcio ragazzi miei ma non mi ricordo spero che l'ho messo tra perché sapevo che giocava contro il Napoli ma non mi sono sbagliato ho messo titolare aiuto non è la prima volta se non sbaglio che Gallo fa autogol una volta si fa espelle una volta una cosa ricordo situazioni abbastanza assurde abbastanza paradossali e vabbè sta palla messa dentro tacco de Kvara palla per Mario Lui che mette in mezzo e praticamente regà ha beffato Falcone in una maniera incredibile ma il Lecce poi nonostante il gol del dell'1-2 ha continuato ad attaccare ha continuato a provare a buttare una palla in rete per raggiungere almeno il pareggio c'è stato un salvataggio importante di Di Lorenzo un'altra conclusione oggi non c'è più a parlare di un TT ecco in vista dello scontro di Champions League con il Milan questa è la mia ultima disamina ma non so l'entità di questo infortunio di Simeone ma non dovesse recuperare Osimen ragazzi voi capite bene che senza i terminali sfortuna comunque perché una volta Osimen una volta Simeone gli unici due non mi pare che ci abbia no non c'è un terzo attaccante di ruolo come te la vai a giocare col Milan sarebbe pesante poi dovesse recuperare Osimen ovviamente però ecco è un altro problema in più comunque pure se recupera Osimen non c'hai l'alternativa non c'ha Spalletti la possibilità di poter scegliere perché poi giocattela col terminale offensivo di riferimento e averlo come cambio l'altro ti dà la possibilità ma vale per tutte le squadre quante volte tante squadre lo stesso Milan sono rimaste con tanti calciatori indisponibili e infortunati assolutamente sì però proprio nel momento più importante della stagione succede una cosa del genere dopo che hai perso 4-0 con il Milan sicuramente qualche certezza in più psicologicamente te la viene a togliere ripeto per me il pareggio ci poteva stare assolutamente siamo nell'ultimissima occasione non credo arriverà il pareggio arrivati a sto punto Falcone anche in mezzo il Napoli che spazza sta un po' arrancando il Napoli ecco un po' preoccupato ripeto secondo me più dal punto di vista mentale qualche certezza in meno e poi questi sono i risultati un Napoli che non avesse avesse perso 1-0 con il Milan e non 4-0 io vi assicuro che sta partita l'avrebbero vinta 4-0 senza se e senza ma proprio senza pensacce in attimo è finita in questo momento voglio sapere voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti mi piace commentate condividete iscrivetevi a tutti i canali sociali in descrizione contenuti consigliati vi ringrazio per la visione e alla prossima con un nuovo video in ottica campionato ragazzi questa è una vittoria che ovviamente dà morale per come è arrivata comunque è sempre una vittoria quindi sicuramente aiuterà il Napoli ad essere un po' più tranquillo in vista delle prossime di campionato ciao ragazzi